Salve a tutti. Bene, prima di parlare in maniera più specifica e definita del metodo autobiografico creativo, è a mio parere doveroso e opportuno fare una brevissima sintesi di quello che un po' è il fine per cui il metodo autobiografico creativo diventa un mezzo fondamentale per raggiungere la cosiddetta intelligenza emotiva. Abbiamo qui utilizzato una ricerca effettuata su quello che è un po' la definizione dell'intelligenza emotiva proprio perché vogliamo attenerci a quelle che sono un po' le definizioni tra virgolette accademiche. Per intelligenza emotiva si intende un aspetto dell'intelligenza legato alla capacità di riconoscere, utilizzare, comprendere e gestire in modo consapevole le proprie ed altrui emozioni. Questa parola sarà il nostro leitmotiv per tutto il percorso che andremo ad analizzare, a frequentare, se mi è consentito di passare appunto questo termine. Nel 1990, quindi siamo in epoca assolutamente recente, due docenti parlano di emotional intelligence, cosa che verrà strutturata in maniera molto più approfondita e molto più attenta dal più famoso Daniel Goleman con il libro Emotional Intelligence, che tra l'altro è stato appunto poi tradotto in Italia successivamente con un titolo molto importante che è Intelligenza emotiva, che cos'è, perché può rendere felici. Bene, questa felicità, questo benessere, che è un altro momento importante, fondamentale per l'intelligenza emotiva, può essere raggiunta sulla base del dottor Centonze, appunto sulla base delle indicazioni che il dottor Centonze ci offre proprio attraverso questo metodo, il metodo autobiografico creativo appunto. Un metodo assolutamente importante, assolutamente spendibile in numerosi contesti, che chiaramente ha un suo percorso inevitabilmente. Uno di questi percorsi è quello appunto della tecnica della fiabazione. Tutti quanti noi, siamo stati gettati, lanciati nelle storie, nelle fiabbe, in mondi fantastici. Ebbene, se da un punto di vista prettamente strutturale, la fiabba, come ben sappiamo, ha un suo evolversi, nel metodo autobiografico creativo, questo tipo di lavoro diventa finalizzato al benessere di se stessi, che porta inevitabilmente al benessere verso gli altri. Quindi attraverso le frasi e le fasi della evoluzione di una storia abbiamo la fortuna di poter utilizzare in, ripeto, moltissimi contesti quella che è un po' la struttura che tutti conosciamo. Quindi si parte, attraverso un aggiornamento induttivo e deduttivo nello stesso tempo, da un piccolo particolare, che è appunto la nozione di fiabba, quindi per capirci il c'era una volta, per poi raggiungere il lieto fine, cioè vissero tutti felici e contenti. In una prima fase, come vissero tutti felici e contenti, diventa un, visse il protagonista felice e contento e chiaramente tutto ciò che deriva da lui poi subisce questa, diciamo, questa onda di positività. Ebbene, in un contesto laborativo, secondo me, per esempio, un habitat naturale di questo metodo potrebbe essere, per esempio, l'azienda, viene citato da dottor Centonze, per esempio, l'ambiente sportivo. Se c'è un problema, questo problema può essere assolutamente risolto attraverso, appunto, l'autodeterminazione che porta ad un benessere da poter poi condividere con gli altri. Quindi, attraverso un'analisi su se stessi, attraverso un racconto di se stessi, si arriva inevitabilmente anche a un benessere condiviso, che non può che portare ad una vittoria, ad un benessere, prima verso se stessi e poi inevitabilmente verso gli altri. Grazie e grazie al dottor Centonze per questi importanti riferimenti del suo metodo. E buona intelligenza emotiva a tutti. Ciao!